Ottobre terribile sulle strade siciliane. All'alba di oggi ancora un incidente mortale, questa volta sull'autostrada Catania-Messina. A perdere la vita un ventenne, Matteo Urzichi, a bordo di un autocarro insieme al papà e alla mamma, si stava recando al mercatino di Santa Teresa Riva a vendere prodotti alimentari. Quattro persone, fra le quali i genitori della giovanissima vittima, sono rimaste ferite. L'impatto mortale si è verificato intorno alle 6.20 sulla corsia in direzione Messina, all'altezza di Fiumefreddo di Sicilia, quando il mezzo su cui viaggiava la famiglia Urzì, originaria di Piedimonte Tanneo, si è ribaltato sulla sede autostradale. Da lì a poco un furgone che viaggiava nella stessa direzione di marcia ha investito il veicolo. Per Matteo non c'è stato proprio nulla da fare. I genitori, insieme ad altre due persone, conducente e passeggero del secondo mezzo, sono rimasti feriti e trasportati all'ospedale San Vincenzo di Taormina. La signora è stata poi trasferita in elisoccorso in un ospedale di Messina. Sul posto, diverse ambulanze, oltre che l'elisoccorso, i vigili del fuoco di riposti a Cireale, la polizia stradale di Catania e Giardini Naxos. A causa dei mezzi incidentati, in carreggiata, si è formata una coda di 5 km in direzione Messina. Ancora sangue, dunque, sulle strade siciliane. Il bilancio degli ultimi giorni parla di due motociclisti deceduti in altrettanti scontri. Dell'incidente di due giorni fa sulla statale 284 costato la vita a due persone e adesso la morte del ventenne. Numere di una guerra non dichiarata sulle strade siciliane e che invitano ognuno di noi a sentirsi coinvolto. La differenza la fa la prudenza.